Le parole di Gesù Dunque, abbiamo scritto un libro intitolato Le parole di Gesù insieme forse a uno dei più grandi biblisti che abbiamo in Italia che si chiama Ludwig Monti Per quale ragione? Non perché io mi stia convertendo perché io non sono né ateo, né credente, né laico perché sono greco, cioè penso come i greci pensare come i greci significa prendere sul serio la morte e non avere speranze ultraterrene non è una scelta perché se prendi sul serio la morte acquisisci il senso del limite non oltrepassi la tua misura, costruisci un'etica grande quindi è la consapevolezza del limite L'altra ragione per cui abbiamo scritto questo libro per i bambini è perché le famiglie laiche esonerano i loro figli dalla religione quelle cattoliche li mandano a catechismo dove non si insegnano le parole di Gesù ma si insegnano i precetti della Chiesa il risultato finale è che le parole di Gesù non le conosce nessuno e questo è un problema perché quando i ragazzi diventeranno grandi se avranno una qualche sensibilità per la storia dell'arte la storia dell'arte prevede che tu sappia che cos'è un'ascensione che cos'è una resurrezione, che cos'è una nascita, che cos'è un giudizio universale inferno, purgatorio, paradiso, queste cose se non le sai, non capisci niente dell'arte italiana perché per secoli è andata avanti sul registro cristiano dunque la ragione invece teorica per cui mi sono occupato delle parole di Gesù è che Gesù pensa che la salvezza non sia nel futuro ma nel presente la salvezza si compie qua e infatti anche nella figura metaforica del giudizio universale si dice che saremo giudicati se avremo accolto gli stranieri, dato da mangiare agli affamati da bere agli assetati, visitati i carcerati queste cose si fanno qua e allora la salvezza è nel presente e questo è così vero perché nella lingua ebraica la parola verità si dice emet che vuol dire fare allora la verità è una cosa che si fa che si mette in pratica e Gesù dice spesso noi facciamo poca verità e questo è molto interessante perché noi pensiamo che la verità sia una struttura teorica che si contempla no in aramaico e in ebraico emet vuol dire fare le cose si fanno e nel fare c'è la verità e allora cosa vuol dire fare la verità? significa non so comportarsi come il samaritano il samaritano vede un povero disgraziato bastonato dai banditi al margine della strada passa un levita e cambia marciapiede passa un sacerdote della legge e non lo guarda neanche passa un samaritano che tra gli altri erano gli eretici dal punto di vista dei sacerdoti di Israele il quale si ferma si prende sulle spalle questo povero uomo lo porta in una locanda dà un anticipo dice al locandiere sei speso di più quando ritorno ti compenso ecco allora qui cambia la nozione di prossimo perché tutti pensano che il prossimo sia la persona che sta davanti a me no sono io che mi faccio prossimo alla persona indigente il prossimo è un'azione mia io sono il prossimo nel mio farmi prossimo come fa il samaritano questo vuol dire fare verità un altro scenario molto bello è quando Simone che è un fariseo vuole sapere se Gesù è davvero un profeta lasciamo perdere Messia ma almeno profeta e lo invita a pranzo e in quel pranzo giunge Maddalena la quale unge i piedi di Gesù li bacia gli unge i cappelli lo accarezza e a questo punto Simone con favola con i suoi no non è un profeta perché se va con le prostitute non è un profeta se non la riconosce come prostituta non è un profeta Gesù sente e si rivolge a Simone e gli dice scusa io sono venuto nato a casa non mi hai lavato i piedi non mi hai unti i cappelli questa donna invece queste cose le ha fatte poi si rivolge alla Maddalena gli dice i tuoi peccati ti siano rimessi perché hai molto amato ecco cosa vuol dire fare verità tenendo conto che la religione monoteista è l'unica che mette in circolazione l'amore non è l'ebraismo non è l'Islam ma è il cristianesimo quando Gesù si arrabbia perché Gesù si arrabbia anche contro i sacerdoti del Tempio e si arrabbia furiosamente perché entra nel Tempio abbatte tutte le bancherelle avete fatto del Tempio un mercato guai a voi ecco questo guai è riferito solo ai rappresentanti della Chiesa questo sta a dire che Gesù non fonda una religione Gesù espone una fede una fiducia in Lui nella Sua parola non una religione il messaggio di Gesù è passato nel cristianesimo senza essere stato minimamente percepito e questo è stato uno dei motivi per cui mi sono impegnato in questa lettura delle parole di Gesù senza essere stato percepito perché il cristianesimo è diventato una religione e la religione è l'esatto contrario della fede in che senso? non so, prendiamo la religione cristiana che è quella che conosciamo meglio con l'editto di Costantino diventa la religione dell'impero romano con Carlo Magno diventa la religione del sacro romano impero con la scoperta del nuovo mondo diventa una cosa terrificante perché basta leggere il diario di bordo di Cristoforo Colombo sono stati uccisi milioni di indigeni in cambio di battesimi che si rifiutava veniva ucciso in nome della religione anche con il concilio Vaticano II che tutti celebrano come una emancipazione della religione in realtà è la religione che si è conciliata anche con l'aicismo e allora che cos'è la religione? non è fede è la sacralizzazione sacralizzazione di una cultura anche la religione islamica è una sacralizzazione della cultura musulmana anche la religione ebraica è una sacralizzazione dell'aibraismo ma non è una fede la fede invece è una fiducia nella parola di Gesù almeno come ce la espone lui come la fede diventa religione automaticamente smarrisce la sua dimensione fideistica e diventa un'organizzazione un'appartenenza un luogo dove uno si sente al sicuro perché tutti la pensano in quel modo la pensano in quel modo quando Paolo va all'Areo Paolo ad Atene lodo agli Atenesi perché dico vedo che voi oltre agli altari che avete eretto ai vostri ai vostri dei avete eretto un altare anche al Dio ignoto e però subito dopo San Paolo dice che questo Dio ignoto è il Dio del cristianesimo e a questo punto lo rende noto ma nel momento in cui tu rendi noto Dio lo trasformi nel capo di una religione nel riferimento ultimo della religione e a questo punto lo perdi c'era Maester Eckhart che diceva Dio liberami da Dio perché con il tuo nome ti offendiamo ecco allora bisogna tenere ben presente questa distanza che c'è tra la fede e la religione lo scopo di questo libro è questo dopodiché Paolo va avanti e dice che i cristiani risorgeranno perché Gesù ha vinto la morte e a questo punto i greci lo guardano apriamo gli atti degli apostoli al capitolo 14 alcuni risero altri gli dissero questa storia ce la viene a raccontare un'altra volta per dire la distanza abissale che c'è tra grecità e cristianesimo tradotti in religione non in fede mi raccomando perché la fede indica la salvezza in questo mondo non chissà quando e non al di là chiudiamo con una considerazione molto bella che sostanzialmente passa come qualcosa di ignoto nella storia della religione cristiana c'è un giorno in cui Gesù deve andare a morire e i farisei e i sacerdoti mandano le guardie a prenderlo e le guardie tornano senza Gesù ha una domanda dei sacerdoti dove è Gesù perché non l'avete portato qui e loro rispondono mai nessuno ha parlato come quell'uomo a questo punto occupiamoci delle parole di Gesù al di fuori della religione che è la negazione della fede di Gesù di Gesù di Gesù Grazie a tutti